Buongiorno a tutti, sono Alessio Martinelli, agente immobiliare Remax della Polare. Oggi siamo su Capurso, in zona centrale ben servita. Quella che vi mozzerò è una casa indipendente, con terratto, completamente ristrutturata sei anni fa. Seguitemi! Benvenuti! Oggi vedrete un immobile completamente ristrutturato. Come potete vedere ci troviamo nella zona giorno, composta da un bell'open space arricchito da un fantastico camino, completato da bagno per gli ospiti, a sinistra porta che ci fa accedere ad una comoda cantina, e a destra un piccolo ripostiglio a modo di dispensa. Salendo al primo piano troviamo un ampio disimpegno dove poter realizzare un armadio a muro, ed infine il bagno principale, a servizio della camera matrimoniale, bella ampia e luminosa. Da questa comoda manzata, sul quale possiamo creare uno studio o una cucina secondaria, si accede a questo meraviglioso terratto a livello, completamente ristrutturato, piastellato, come potete vedere. Se non vuoi perdere quest'occasione, chiamami a 346 129 1937, ti aspetto!